Insomma, signor Presidente, ma riguardo lo standalo della ragazza che lei è più bravo, cosa è successo? È successo che in questi giorni mi sento un pochino abilito, quindi stavo pensando di rifarmi alcune parti. Ho chiesto ai miei collaboratori di fare alcuni disegni e questi sono i risultati del corpo definitivo. Sì, sì, signor Presidente, ma scusi una cosa, stavamo parlando di un argomento, parliamo all'argomento. Sì, giusto, la mia spalla, ce la ringrazio per avermelo chiesto. Ho un dolore da due giorni nella spalla e è stato anche questo che mi ha voluto far pensare a dover riparare questo intervento. Ok, però volevo continuare il discorso dello scandalo che sta sicuramente subito. Certo, è un scandalo questo inquinamento ambientale, veramente. Io sono con Greta Thunberg. Dai, 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 Thunberg. Thunberg. Dai, dai, dai.